Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento questo simpaticissimo gioco dagli stessi creatori di Exploding Kittens e in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Asmo d'Italia, che ringrazio di cuore immensamente, come sempre, per avermi offerto questa copia per la recensione, si parla di A Game of Cat and Mouth, un gioco veramente molto carino, competitivo, divertente, solare e questo davvero più forse di tutti i prodotti che vi ho presentato per ora, questo per tutti, dove lo metti lo metti, da un bambino di 6 anni a una persona adulta, farai passare dei bei momenti e farai divertire veramente da morire. Un gioco freschissimo e per tutte le tavole. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. A Game of Cat and Mouth, in questa edizione qui davanti, come vi ho detto poc'anzi a cura di Asmo d'Italia, è un gioco dove la scatola, che sono quelle cose che mi piacciono allo stesso tempo e da una parte mi fanno paura, la scatola prendola diventa il campo di battaglia e ai due lati è una specie di campo da ping pong o da tennis, c'è un divisorio al centro e ai due lati ci sono i vari territori, gli schieramenti di ciascun giocatore. Ciascun giocatore ha delle palline colorate, che sono di colore bianco e giallo, come vedete appunto dalle immagini, colore bianco e giallo e ci sono due zampette di gatto che si chiamano zampette fionda, con tutti quanti i gommini che tra l'altro a me e mia moglie e i gatti ci fanno impazzire. E infatti è un gioco veramente molto divertente perché voi avete la vostra parte del campo, come vi ho detto se fosse una specie di piccolo campetto da ping pong, e avete questa mano dove non ci sono turni né niente, quindi non c'è da aspettare la mossa dell'avversario, ma si gioca in contemporanea, anzi chi gioca più veloce ha più possibilità di anticipare, non vincere, però anticipare le mosse dell'avversario, si prende la zampetta, si carica con una pallina e si lascia andare per lanciare la pallina. Bisogna tirarla dalla parte avversaria nella metà campo avversaria e la partita si vince o mandando tot palline di colore giallo di là dalla parte dell'avversario, quindi quando lui ha questo numero di palline da regolamento nella sua metà campo la partita è finita, o se no la partita può essere vinta colpendo il naso del gatto, perché al centro del tavolo c'è un gatto che ha praticamente una pallina nera al naso e tre palline bianche ai denti. La partita può essere anche vinta facendo un tiro precisissimo, colpendo il naso del gatto, la pallina nera che deve cadere nella metà campo dell'avversario oppure facendo cadere i tre dentini del gatto che anche quelli a loro volta devono cadere nella metà campo di là oppure mandando tot palline del colore giallo dall'altra parte. È un gioco di tutte le velocità, quindi se ti arriva una pallina nella tua metà campo te la prendi e la rilanci, la prendi e la rilanci, la prendi e la rilanci, però ci sono palline, come vi ho detto, bianche, nere e gialle, quindi sta anche a te un po' di liberarti di tutte le palline che c'hai. La regola del gioco vuole che quando una pallina finisce fuori dal tavolo o cade comunque fuori dal campo di gioco, metà tua o metà sua, bisogna urlare ferma, bisogna far fermare il gioco, tempo di riprendere la pallina e si riparte automaticamente, quindi questa è l'unica regola. Ed è un gioco veramente veloce, divertente ed è anche bellina la fin fine, è abbastanza competitivo, uno di quei giochi abbastanza frenetici, però a livello divertente, a livello puro, non a livello competitivo da magari arrabbiarsi o farsi prendere dal nervoso. Questo assolutamente no. In conclusione, A Game of Cut and Mouth è un gioco, ve l'ho detto, assolutamente per tutti, per tutti, tutti, tutti. Poi, ovvio, deve anche per scelti il tipo di gioco, però io penso che trovandolo sul tavolo, già tutto apparecchiato, bellino aperto, si fa una partita, ed è anche il classico gioco, come dico sempre, un po' da spareggio per bloccare ogni tipo di contesa e dire, vabbè, vai, invece di fare test o croce, facciamo una partita tanto dura 10 minuti, ed è divertente. Porta tutto, si richiude veloce, rimette a posto, richiudi la scatola, la scatola tra l'altro è il campo di battaglia, quindi è veramente, veramente carino e secondo me assolutamente passata a pieni voti ed è un titolo interessante che, sono sicuro, farà divertire chiunque. Ringrazio ancora una volta Asmod Italia per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione e insomma in pressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Come vedete a nota, quando acquistate, usate sempre il codice discount Coridan7, scritto tutto maiuscolo, per avere uno sconto nel 7%, e se fate una spesa, non solo di giochi da tavolo, Warhammer, pitture, qualsiasi altra cosa, e superate i 79 euro spese postali in 48 ore in tutta Europa, gratuite, quindi non solo lo sconto nel 7% con il mio codice discount, ma oltre 79 euro anche spese postali comprese nel prezzo, quindi non le pagate, è gratuite, ed è un servizio eccellente. Fatemi sapere cosa ne pensate ed è veramente, veramente carino. Ciao ragazzi, alla prossima!